Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. L'estate scorsa, la fine del matrimonio tra Alice Campello e Alvaro Morata ha fatto parlare tantissimo, diventando uno degli argomenti più caldi e discussi sui social. La coppia, che ha trascorso sette anni insieme e ha avuto quattro figli, ha annunciato la separazione inaspettata, scatenando un fiume di ipotesi e speculazioni. Alice, nota influencer, ha subito messo in chiaro che non ci sono stati tradimenti da nessuna delle due parti. So chi sono e so chi è Alvaro, ha dichiarato. Lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto, e metterei la mano sul fuoco che neanche lui l'ha fatto. Non ci sono foto, video o messaggi compromettenti, perché semplicemente non esiste nulla da nascondere, nonostante tutto il mondo stia cercando qualcosa che non c'è. Eppure, le voci e le indiscrezioni continuano a circolare senza sosta, soprattutto online. Nuovi dettagli emergono continuamente, alimentando il gossip attorno alla loro vita privata. Uno degli ultimi aggiornamenti è stato fornito dalla giornalista Alexia Rivas durante il programma Let's See Social Club, dove ha svelato un retroscena sorprendente sulla rottura. Secondo Rivas, una lite scoppiata durante gli europei avrebbe segnato il punto di non ritorno per la coppia. Pare che la tensione sia salita alle stelle quando Alvaro ha insistito per avere tutta la sua famiglia presente alla celebrazione dell'Eurochap, mentre Alice voleva che solo lei, i loro figli e alcuni amici fossero in campo. Questa discussione pubblica e accesa, avvenuta davanti a tutti, sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da quel momento, sembra che non ci sia più stata la possibilità di ricomporre la frattura. Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento. Il tuo supporto è prezioso. Dopo quella lite, le cose sarebbero peggiorate, e gli avvocati della coppia avrebbero iniziato a lavorare sui documenti per un divorzio che sembra ormai inevitabile e di comune accordo. Durante la trasmissione, Rivas ha anche aggiunto, Alvaro vuole che ad Alice non manchi nulla, e i rispettivi avvocati stanno facendo in modo che tutto si concluda al meglio per entrambi. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.